E con noi abbiamo anche DJ Graff e Neffa del Sangue Misto che hanno portato un regalo, perché non vengono mai mani vuote e hanno portato il remix di un pezzo del loro nuovo album che si chiama Cani Sciolti, giusto? Sì esatto, abbiamo fatto questo remix che è una mega anteprima perché in realtà sarà fuori nei negozi fra un mese però sapendo che insomma a noi ci piace e a noi puri ve l'abbiamo portato bene, tra l'altro salutiamo Deda che è il terzo del gruppo che non è con noi però per un buon motivo non è con noi si deve studiare, a scampare alla naia si deve preparare gli esami, se no poveretto ce lo portano militare, come li facciamo i sangue misti? infatti mando i saluti a Deda e tutta via il nero e allora io direi di cominciare approfittando di così tanta gente simpatica che sa fare il rap, sa fare freestyle direi di cominciare con un bel freestalone cosa ne pensi? Buona idea? ci vorrebbe un freestyle con del nuovo sapore da infilare a forza nelle vostre orecchie il nuovo sapore particolare ti posso dare, sono la strappattuta e so improvvisare l'ho dimostrato da tanto tempo ed ancora lo posso dimostrare perché sono la strappattuta e lo devi sapere ormai volando in quanto lo so fare lo sto facendo sono la strappattuta e in questo momento invento questo è solamente flow senza contenuto se non ti piace quello che sto facendo resta muto in quanto sto parlando proprio adesso ho dimostrato che non sono un fesso e il successo non mi ha dato la testa in quanto la festa la tengo sullo stesso e guarda come vado proprio adesso un poco fuori tempo un poco attento comunque basso la parola a Azzà così è contento la puntata è iniziata con il freestyle la strappattuta al secondo della lista che imposta da costa a costa quindi seguimi sono la strappattuta a di professione l'MC OTI e WR è la mia crew quindi sai sì siamo qui e non andiamo giù ma andiamo su perché la strappattuta a ci sa fare quindi stai a guardare ok ok passo la parola a chi è che è qui la strappattuta a fare un CG ah chico sai com'è mi son gremato un tubo un calumè e un arghile e son rimasto black come il tipo amara che è zero stress proseguo la gremata di tutti gli strumenti faccio un check boom no vene e qui con me c'è SNEF e te lo fa SSO adesso e io ci credo no ci credo no senti come smazzo di O.P.A qui chi c'è qui chi c'ha la N la E la doppia F A a radio DJ cico ci fa c6 ne fa bici e di brutta senti come smazzo questa doppa tu mi dà lirica come DJ graffa sniff leaf net saluta de don d peccato che lui non è potuto venire qui è rimasto già a Bologna lui deve studiare e allora tocca a sniff leaf net for beat importare questa medical te la faccio pure jet se ti piace senti snap come suona faccio stare bene un po' senti come suona già sai dice il jingle cento sopra cento doppa vera io non fingo con il bum buccia cico bum buccia come Deda e sempre in doppa in pista più una porra tipo ho l'iguai già sai come mai la doppa di sangue mista tipo tal e quando ne smazzo un minimo viaggi di testa e vai se non capisci non capisci puoi chiamala se vuoi la solitudine fra noi saluti a tutti da Nèfa bella sbrass vet per i ragazzi del Salento DJ Albertino che ci ha chiamato qui e salapina già sai Nicola Nicola